da questa parte uno distrutto questo qua dentro un altro è down morto morto non so se abbiamo gente di fianco ma è possibile no ne ho uno qua di fianco in questo building qua 15 13 alla blu è splittato sicuro un'altra qua sotto una di dietro posso mettere la zip per cinque secondi vai tengo qua io quanti sono dentro sono due pusciamo sono due sono due mi sa però sicuro due sicuro due non so se sono tre però arriverà il compagno sono andati via non li vedo più non sono top saranno sotto qua saranno andati ma è normale che non abbiamo sentito una sega eh no non è normale no però ho visto movimento là giù ma è un altro quello quello è il terzo io ho visto solo un gibbi qual è una rate non lo so non riesco a ittarla la rate io non l'ho vista prima ce ne erano due in caso io sono andato il gibbo e basta quindi non so comunque boh dammo se alluta dietro continuiamo a lotare sti edifici mi sembra che hanno bailato il fight questi qua sono ferì sì abbiamo guardato tutti tutti i piani per vedere se sta nascondendo sono trappole entro a casa occhio sono tre dentro casa occhio bianco crackato uno esce sotto sotto non si sa mai se vogliamo usare la difensiva entro dentro anche io un secondo perché vanno stanno bailando lì con un portale hanno bailato lì con un portale uno in bianco uno in bianca sta avvicinando c'è la zona 121 la rate la rate davanti a me la ve la fate la fate qua ok a 30 HP 60 è distrutto è un altro team mi sa quello lì sai possiamo andare anche via ci sei fatto qualcuno? una rate la uccido aiutatemi a sparare che la uccidiamo morta craccato l'altro l'altro sta con le pezze vai lo puscio vai puscialo lo puscialo morto 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 c'era un crypto però dove è finito? sono quelli che hanno bailato out sono quelli che hanno bailato out guarda il treno è buono è aperto il treno è safe non è già adottato farsela tutta a sud non è mica male sì sì io farei così la stazione qua è alluttata possiamo prenderla tutta la fisica che hai fatto? ma come cazzo hai sentito laggiù? eh ho fatto il rampino sul treno andavo in avanti e indietro contemporaneamente gente anche vicino ah sei tu distruggendo no non la vedo la vulca ah ce l'hanno lì ce l'hanno lì porca va bene va bene mi aprite la porta sotto è già aperta Tommy entra perché sennò prendiamo danno gratis vabbè proprio là sotto allora chiudiamo good eh ecco la porta andata vabbè rischio calcolato io guardo un team qua gold oh mio dio oh la madonna che è? stessa cosa fiskiperone? non lo so eh sì è un colpo di fiskiper quello passi fuori viola uno una viola e uno 88 crackato minchia l'ho distrutto pure io ce ne ho uno sotto la casa peccato potete andare in azione Tommy dobbiamo cercare una posizione safe magari lì dietro in quell'angolo ci mettiamo allora abbiamo un ratto là quello ho pingato io adesso metto un tp oh spanno da fuori? ah se oro torno dentro no perché mi ha mi ha messo fuori guai te l'hai l'ulti pronta già mi sto trovando a pushare io sì ce l'ho la vorrei mettere lì dove ti ho messo il più dobbiamo prendere teleporter venite prenditi perché tra poco si chiude oh sono qua no ci credo che cazzo è questo sei tu power sì il 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 cripto è low ma down prendetegli la cosa anche se volete stanno tornando dentro loro ok potete restarmi anche ora è su io guarda dietro dammi un secondo me l'hanno distrutta l'ultima ah ok scusa scusa guardarci dietro metto passi alti p metto la mia ultima ho tirato granate ok ci sono sono full Non facciamoci da un'ara adesso Ci sono ancora quattro squadre remeni E c'è un team sotto di noi sicuro Aspetta guardo io Che ho la Q Ho tirato giù la cosa Tiro un nade dentro Li ho presi mi sa con la nade Ti ho fatto male a 1 42 Non ho più nade Io devo guardare qua sotto raga Non fatevi Non fatevi downare Però bisogna tancarsi un attimo la safe C'è un team qua dietro Ma lo copro io Non fatevi ingaggiare Sì sì ma guardano solo noi Non guardano gli altri Ok si sta sparando dietro Non andate Uno fuori Mi voglio cambiare l'armor al volo Con quella della tizia Non so se ce la faccio Da provo eh Provo a switchare armor Rompe le scatole Vado al volo Da questa parte uno distrutto Cambiata Eccomi Ho finito uno Sto fuori con il devotion io Mi sto facendo male bambino Vado sopra Vado sopra Occhio Ale Ha poca vita raga Questo qua dentro Sono solo loro due Sono solo loro due dentro Un altro è down Dov'è l'ultimo? Ha fatto il pazzo Ha fatto il pazzo 50 ha craccato Fatti due Il secondo si può restare Uno si può restare Ah sai l'ultimo Bella 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 raga GG Quante fans c'erano Mamma mia che tristezza Guarda qua Gente gente qua oh Dietro di te Tommy 30 30 Hai ragione Bianca 8 Mi sto arrivando da dietro La ruete low Uno in viola Mi fa forte Sono tutti in viola Abbiamo il tp Abbiamo il tp Ho preso Ho preso Fatti due Fatti due raga Eh mi do cura Sono due squadre Ti provo a coprire Ti provo a coprire Ha una viola Ho preso il portale Che lo porta dietro Poi sto finendo qualcuno qua Ho ucciso un cripto Finito Questo sei te Ale Sono qua dentro 860 la lifeline Crackato sopra Pesce sul retro Pusciare la mia Che è la mia Eh una era loro Buono Buono Morto Morto La viola Questa La blu Io direi che siamo forse Uno dei pochi team In tre raga Se non l'unico team Con tre persone Di questa lobby Quindi Direi di muoverci Possiamo prendere Il palloncino Stanno sparando A quei due Sì rivedo 21 Knockato Hanno adorata Mi sta vicino io Lui è morto Vado a prendere 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 Sotto Oh si fightano Tranquilli Tranquilli Sono gli unici team da due Poi c'è un ratto Stanno fightando Non sarebbe male Andare Ve lo dico Non sarebbe malissimo Io posso mettere Zip Io ti direi che Forse è meglio andare Sono gli ultimi Proprio l'ultimo team Ma almeno facciamo un po' di kill Sennò finisce con una kill Vai vai L'ho messo in higher ground Vai vai Andiamo Ci sta E' un team qua sotto però Andate fino top Andate fino top Sono top Non è safe Non è safe Qua si Non li vedo Dove sono Sono sotto Sono sotto Al casolare di sotto Guardate un po' sotto Qualcuno che tenga D'occhio Per vedere dove è che Dentro caso Oh No Mi sono ricrasciato i server Mi avrei buttato fuori Raga No 73 100 Gli ho fatto Ale al Fat fighter Pingami dov'è Per chi non lo È la sinistra È l'ultima safe L'ho sfondato Non ha più vita Io vado Vado Vieni Vieni Arrivo Si sta curando Però è in oro Prenditi l'oro Prenditi l'oro È uno da solo Da dietro Da dietro Vieni fuori Questa è la mia ulti Ti sono buttati Da dove o Da dove cazzo Ti sparano Qua da me Ha una blu Bella DG Vieni fuori